Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata con un video dedicato a The Sims, era da tantissimo tempo che non ne registravo uno in realtà però questo è un video diverso dal solito perché non ho mai portato uno di questi video sul canale quindi spero che questa idea vi piaccia sono andata a riprodurre la mia cucina su The Sims nell'ultimo video vi ho mostrato il tour della mia cucina e quindi ho pensato di riprodurla anche su The Sims in tante mi avevate chiesto di fare questo genere di video e quindi finalmente sono riuscita a registrarlo sono andata a scaricare tantissimo materiale personalizzato che ovviamente mi serviva per riprodurre quasi perfettamente la cucina sono abbastanza soddisfatta del risultato che è uscito ci sono alcune cose che non sono ovviamente perfettamente uguali perché non sono riuscita a trovare il materiale però nel complesso il risultato finale devo dire che mi piace molto quindi fatemi sapere con un pollice in su se questo tipo di video vi piace così magari continuerò a farlo anche con altre stanze o magari semplicemente potrò fare altri video non dedicati alle stanze della mia casa quindi non riproducendo perfettamente quello che sto facendo io adesso in casa nuova ma magari semplicemente andare a costruire delle stanze cosa che mi piace molto fare su The Sims ovviamente quando gioco nella modalità costruisci indipendentemente da questo video utilizzo sempre il materiale personalizzato perché rende le stanze molto più realistiche questo angolo devo dire che mi ha fatto dannare perché non ero mai soddisfatta del risultato ho cambiato un sacco di volte e alla fine ho messo una terza colonna che in realtà ho ma è completamente bianca non ha il ripiano delle bottiglie in realtà non ho nessun ripiano delle bottiglie nella vera cucina però non avevo il materiale identico alla cucina che ho e quindi ho messo quello che avevo pollice in su se volete vedere di nuovo i video di The Sims i classici video e le classiche storie che ultimamente non sono più uscite sul canale perché non sono più riuscita a registrarli comunque più o meno ci assomiglia per quanto riguarda l'impostazione della cucina e poi sono andata ad aggiungere i vari oggetti che è sicuramente la mia parte preferita per quanto riguarda l'arredamento su The Sims ho tantissimo materiale personalizzato per quanto riguarda gli oggetti di decorazione e quant'altro quindi sono andata a distribuirli per tutta la cucina qui sono andata ad aggiungere alcune cose che in cucina oma ovviamente non sono perfettamente identiche ma la riproducono quasi completamente se non avete visto il video vi lascio il link nelle schede così potete andare a vedere il video della cucina originale e poi farmi sapere se sono riuscita a ricrearla quasi completamente identica spero tantissimo che questa tipologia di video vi sia piaciuta se è stato così mettete un bel pollice in su ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo presto ciao 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 ciao